L'esordio è in piazza nel 2013, a giugno sarai all'esordio come giostratore e titolare per Porta Crucifera. Filippo Fardelli, insomma, una rivoluzione che è stata completata a Porta Crucifera in pieno, come ti prepari a vivere questo esordio? Ma, preparazione come tutti gli anni, nel senso, tecnicamente non cambia, che c'entra andando più a più, insomma, col tempo gli anni così, si cerca di perfezionarsi sempre di più, di correggere i difetti che fino ad ora si sono trovati, insomma, è più o meno una routine, insomma. Senti, era nell'area, te lo sentivi questo passaggio da riserva titolare a Porta Crucifera o ti ha colto un po' di sorpresa? Il capitano è il primo incontro che fece, insomma, con noi ragazzi, e ci disse che praticamente quest'anno un ragazzo, uno di noi, avrebbe dovuto esordire. E chiaramente chi se lo meritava di più avrebbe esordito. Non è che ero convinto di me stesso, però mi sono impegnato, ho cercato di dar sempre in massimo agli allenamenti, alle proprie simulate che abbiamo fatto. Credo che sia stata una conseguenza, credo. Io ho dato il massimo, poi dopo. Senti, da quartierista anche, quanto tieni a questo esordio, a far bene a giugno, soprattutto per un quartiere come quello di Porta Crucifera, che aspetta appunto da alcune edizioni di ritornare al successo? Ma, come hai detto te, io sono nato quartierista. Sono nato in un periodo, sono cresciuto in un periodo in cui ho visto tante vittorie. Quindi non ti dico che sono nato nella vittoria, però insomma, mi piace pareggio vincere. E vuoi riportare alla vittoria? Questo, senza ombra di dubbio. Ci si metterà tutto l'impegno, tutta la voglia possibile e immaginabile.